Ciao Ale! Ciao Yuri! Ciao Daniele! Ciao splendori miei! Innanzitutto come state? Fatemi sapere come state. Io sono appena rientrato a casa dalla trasferta a Cosenza. È stato un weekend pazzesco, mi sono divertito tantissimo al queer Cosenza, al mood. È stata una serata fantastica, fantastica, fantastica e voglio ancora ringraziare tantissimo i ragazzi dell'organizzazione, le mie nuove amiche, artiste, drag di Cosenza, Rateds e Eva Kernel, Favoloisie, Stella Artoise. Ci si prepara per venerdì. Esatto ragazzi, perché, come ben sappiamo, il venerdì c'è latte fresco a largo venue. Ma voglio anche farvi un annuncio, approfitto di questa diretta, per svelarvi la novità che vi stavo tenendo segreta, oltre già uno dei segreti che vi ho svelato per il mese di febbraio. Quindi, rullo di tamburi, rullo di tamburi, venerdì 10 sul palco di Largo Venue battezzerò il mio primo format musicale 100% inclusivo che si chiamerà Musica Q. Sarà un format che ho deciso di creare per dare la possibilità a talenti, artisti, emergenti e non del panorama LGBTQIA+. di portare sul palco di Largo Venue il loro talento, la loro musica, ovviamente dal vivo. Musica che, secondo me, è sempre ricca di tanti contenuti, ricca di emozioni comuni a chiunque, ricca di valori. Quindi, avevo proprio bisogno di creare un qualcosa del genere, un safe place per tutte queste persone che hanno voglia di esprimersi. E la prima serata sarà appunto questo venerdì 10, ma la sorpresa ancora più grande è che sul palco con me avrò come ospite, avrò il piacere di ospitare, Roberto Casalino, che è il mio poeta, il mio autore italiano preferito in assoluto, che oltretutto ha scritto insieme a me il mio singolo make-up. Quindi sarà una serata fantastica e visto che sarà in concomitanza con la quarta puntata di Sanremo, il vostro Narciso ha pensato a tutto, ossia vi daremo la possibilità di seguire la puntata del festival direttamente lì con noi. Quindi verrà proiettata la puntata del festival e insieme la commenteremo, chiacchiereremo a proposito del festival e nei vari stacchi pubblicitari e non ci saranno anche i live miei e di Roberto Casalino. Quindi vi invito assolutamente a venire e se la vostra intenzione per venerdì era passarla sul divano a vedere Sanremo, potete venire a Largo Venue a vedere Sanremo e godervi anche la musica di Narciso e di Roberto Casalino. Vedo che quest'idea di questo format vi piace molto. Leggiamo qualche commento. Ciao Sasa89, ieri eri bellissima, grazie. Allora, Giuseppe e Gioffre, ciao Narciso, sono il fratello di Gioffre, prima o poi arriverò a conoscere tutti voi dello show, sei bravissimo e una voce stupenda. Grazie mille, Giuseppe, un bacione. Scorriamo, scorriamo. Ciao Emiliano, come stai? Da quanto tempo? Ah bello! Che piacere ritrovare tante persone che non sento da un po', ragazzi. Allora, 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 previsioni su questo festival. Secondo voi, che cosa dobbiamo aspettarci? Io, già diciamo che ho il mio preferito. A parte, vabbè, Paola e Chiara che stiamo aspettando tutti quanti, insomma. Siamo troppo curiosi di vedere che cosa porteranno sul palco dell'Ariston. Ma vi dirò, io non vedo l'ora di ascoltare il duetto di Giorgia con Elisa. Penso che impazzirò. Impazzirò, l'Ariston crollerà. E quindi, io sono un po' vecchio stampo, quindi quando ho visto Giorgia sono impazzito. Vediamo, Armadio di Michela. Io Mengoni mi piace assai, assolutamente sì. Anche perché, se non sbaglio, sono dieci anni dall'ultima volta che è stato sul palco di Sanremo. E oltretutto, vi anticipo che, per quanto riguarda la vittoria di Marco Mengoni, c'è una connessione con Roberto Casalino, che troverete sul palco con me venerdì 10 a Largo Venue. Quindi, se volete scoprire di che cosa sto parlando, vi invito assolutamente a venire. Quello che non vi avevo detto è che il format sarà in preserata. Quindi, le porte di Largo si apriranno alle 20.30 circa. E con l'inizio della puntata di Sanremo inizieremo la proiezione. E ovviamente tutto ciò che farà parte di questo format musica Q. Quindi, dovete assolutamente, assolutamente venire. L'ingresso è gratuito. E per chi vuole, per chi partecipa al preserata, ha la possibilità poi di rimanere a titolo gratuito anche al party di Latte Fresco successivamente, che sarà anche quello a tema Sanremo. Quindi, un preserata, una serata e una nottata, tutta, tutto intorno a Sanremo. Vedo che sta seguendo la diretta anche mia madre. Ciao, mami. C'è anche la mia sister, Nellena. Ciao, Nelly. Giuseppe Gioffre, spero, ultimo. Che vinca, lo adoro. Beh, beh, sì. Io penso che il... Non lo so, la scelta dei big in gara quest'anno mi fa pensare un po' al cast di Drag Race. Bello vario pinto, quello di quest'anno, e con tanti talenti fortissimi, quindi... Nell'Egna voglio sapere per chi farà il tifo a Sanremo. Che squadra sei? Che team sei? Vediamo un bogo. No, no, non voglio rimuovere nessuno. Mamma mia. C'è mio marito che mi dice che ho le mani a pagnottina, e quindi ogni tanto sono un po' incapace nel premere le cose. Forse gli devo dar ragione che ho le mani a pagnotta. Però dai, non sono così pagnottose. Sono un po' gonfie del viaggio, però... Però vabbè. Bellissimo, grazie. Adesso, scusatemi ragazzi, sono abbastanza sfatto. Ho dormito pochissimo, ho affrontato un viaggio infinito, però ho cercato di dormire, nonostante che avevo una signora dietro di me che, non lo so, giocava tipo a schiaccia la talpa con il mio sedile che stava lì, io cercavo di dormire, questa... Qual è il problema, signora? Qual è il problema? Nelly, in ordine, Mengoni, Giorgia, Elodie. Direi che sono d'accordo con te. Seguo il tuo punto di vista, però aspetto di sentire le songs, ovviamente, perché magari ci facciamo delle aspettative grosse su qualcuno e poi magari ci portano una ciofega, ma speriamo di no. Ecco, vedo che sta partecipando anche Quirco, senza che ringrazio ancora ancora per avermi ospitato questa notte, in una serata pazzesca, ragazzi. È stata meravigliosa, quindi se mai vi trovate in quelle zone, vi consiglio di andare a fare visita al Mood di Cosenza quando ci sarà il party Quir Cosenza, perché è bello, 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 bello. Buonasera, Narcesian. Ciao, Banymen. Ecco anche la Gioffre. Bene, bene, ragazzi. Beh, visto che... Ho visto, vabbè, l'ho detto 13 volte, che vi siete connessi anche in altre diverse persone, vi faccio un recap dell'annuncio che ho appena fatto, ossia che questo venerdì 10 a Largo Venue battezzerò il mio nuovo format musicale inclusivo in collaborazione con Latte Fresco che si chiamerà Musica Q e sarà un format che darà la possibilità ad artisti emergenti e non di portare la propria musica live sul palco di Largo Venue. Quindi vi aspetto, vi aspetto numerosi e vi ricordo che insieme faremo anche la visione della quarta puntata di Sanremo, la commenteremo insieme a Roberto Casalino che si esibirà con me sul palco e sarà un bello scambio, un bello scambio perché Roberto è un'anima bellissima, ha una sensibilità pazzesca e penso che sia l'artista ideale da avere come ospite in questo battesimo delle fiamme, se così vogliamo chiamarlo. Gioffre non ci interessa, beh puoi sempre disconnetterti Stellina. Ciao Mario! Allora, che ore sono? Mamma mia, devo ancora disfare la valigia, preparare la cena, mamma cielo ragazzi, almeno settimana prossima sarò un po' in ferie, quindi spero di riuscire a rilassarmi, rilassarmi un pochino, ma dubito. Insomma, però non ci si ferma mai e va bene così, fin quando si regge botta, si va sempre avanti. Mario, ti adoro. Gioffre, non faccio parte della live, ma stai partecipando come pubblico? È solo il mio spirito. Non lo so, va bene. Sei, non lo so in quale mood sei oggi, amore mio. All'allero. Bene ragazzi, allora, purtroppo questa diretta è stata breve, perché volevo annunciarvi tet a tet questa nuova iniziativa, il lancio di questo nuovo format Musica Q, quindi vi aspetto numerosi, vi ricordo che l'ingresso è gratuito e chi verrà a partecipare a Musica Q avrà la possibilità poi di rimanere anche al party latte fresco. Quindi vi aspettiamo e poi pubblicherò un po' di cosine per farvi da reminder in termini di orari, eccetera, 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 eccetera. Quindi passate una bella serata, concludete questo weekend alla stragrande in maniera favolosa e ci sentiamo prestissimo. Un bacione splendori. Ciao!